Sono andata a scuola, poi sono andata al filatore, perché non sarebbe filanda, sarebbe filatore. Ho incominciato presto a lavorare, ero ancora una bambina e andavo già al pascolo. Nel mio reparto metà delle operaie erano bambine come me. I nostri matrimoni sono tutta una catena legata alla foto. Non lo voglio, questo matrimonio per foto. Io avevo un mestiere, cioè io volevo fare la sarta. Ci siamo sposati al mio paese, di domenica alle 11. Come ho trovato il nord? E come lo immaginavo? Tre case e un campanile. Non avevo mai visto la neve. Avevamo una gran voglia di lavorare tutto il giorno, l'inverno, al gelo, con le mani gelate, a cogliere le violette per fare i bouquet. Era difficile proprio essere donna. Ho avuto sei figli, i parti, eravamo io e la suocera e basta. E sul discorso del sesso c'era il mutismo, non se ne parlava. Uomo il padre, se nasceva un maschio, tutto contento, nasceva una femmina. Non mi convinceva il matrimonio. Io avevo una miniconna che mi guardavano tutti. In fabbrica si parlava di nascosto di politica. Ah, mi interessa invece molto, molto il pugilato. Questa sera, grande debutto di Maruska al trapezio volante. Era una sfida la mia. Volevo dimostrare alla gente del mio paese che il lavoro che avevo scelto era un lavoro dignitoso e secondariamente non me ne importava niente. Volevo dimostrare alla gente del mio paese che avevo scelto.